Un film che ho visto ieri invece, così ci togliamo il sassolino e anche per chi è magari è curioso di sapere la mia su Bonnes e And Al Bonstan Hall è il nuovo film di Luca Guadagnino, regista di Suspiria e altri film meno interessanti per me Anche se non l'ho visto tutti, vediamoci te di Bonstan Hall perché è particolare, particolare Ciao Alca Il film l'ho visto purtroppo in lingua italiana, come ho già detto oggi ho smadonnato per un quarto d'ora per la rabbia perché sapete come sono E credo di essermi perso tantissima intensità, tantissima, sono molto dispiaciuto, nonostante questo il film mi è arrivato e quindi va bene così Si perde tanta intensità, per cui ho provato un po' anche a immaginarmi una recitazione in presa diretta con un respiro più realistico L'ho visto in italiano, doppiato dignitosamente La prima cosa che mi sono chiesto perché è una cosa che la storia e anche grazie al film, la regia comunque è girato bene, è raccontata bene, è sceneggiato bene Riesce a fare e catapultarti in un mondo fantastico, incredibilmente Cioè tu credi di vedere una storia, stiamo parlando di persone che hanno una malattia, cioè una sorta di bisogno irrefrenabile di mangiare carne umana Quindi sono cannibali, ma invece che essere dei cannibali come lo sono, i veri cannibali di cui magari con grande, anche un po' di timore abbiamo letto le pratiche di quelli storici, no? Che si facevano a pezzi la gente, se la mettevano in frigo, la conservavano, quello ci faceva le lampade, l'altro ci faceva le ciabatte Cioè robe veramente che sono talmente assurde che quasi non ci credi Questi cannibali, per come è raccontata la storia, sono una versione moderna dei vampiri Quindi questo è un film estremamente di genere, anche se non lo sembra Cioè sembra un film appunto su dei killer, su dei cannibali Ma in realtà sono creature, sono quasi creature, perché hanno delle capacità Però è tutto molto sofisticato, quindi all'inizio non sembra così Cioè almeno uno potrebbe anche vedere tutto il film senza avere questa chiave di lettura Potrebbe anche non avercela, ma in realtà è così Perché ci sono degli aspetti soprannaturali che non sono assolutamente attinenti al mondo reale Come quello appunto dell'olfatto, poi non entro troppo nel dettaglio per non spoilerarvi il film Quindi ecco, la cosa che mi ha affascinato di più è la capacità di saper scrivere un universo così affascinante Moderno, nuovo, nonostante tu ti stia Tu scrittrice che sei appunto Camille De Angelis Che hai scritto il romanzo Fino all'osso, si chiama Il romanzo da cui è tratto, di cui questo film è l'adattamento cinematografico Ecco, la prima cosa che ho pensato, complimenti Mi è piaciuto, mi è piaciuto proprio come è scritto Per cui posso fare i complimenti anche alla sceneggiatura Che in questo caso è di David Kajanik Lo dico, lo leggo perché io non, sicuramente non me lo ricordo Quindi non è, non è intervenuto Guadagnino direttamente E vabbè, poi dopo parliamo anche un po' della regia Timothee Chalamet, bravissimo Non è, è anche produttore tra l'altro in questo film Bravissimo e non lo scopro io Questo attore giovane con viso particolare, fisico particolare Rappresenta un po' il nuovo DiCaprio Cioè se vi immaginate DiCaprio come era in The Beach 60 kg di cristiano Magrissimo, asciuttissimo, giovanissimo Quindi è proprio, ma anche i vari James Dean Insomma quel tipo di attore, di star Diciamo maschile che è affascinante Ma anche molto delicata Anche no? Molto sottile Ecco non Vin Diesel Per farvi capire un estremo E Bonsentolo ho trovato un film Diretto bene Molto diverso da Suspiria Molto meno sognante di Suspiria Suspiria è un film sognante Un film dove tutto sembra in realtà uscire da un sogno Sia per la sua fotografia particolare Sia per i flashback che sembrano dei sogni Sia per tutto Tutto sembra un sogno Anche se non è un film uguale ai film di Dario Argento In cui cosa prende da Dario Argento E Dario Argento è un regista sognante Ecco questo non è per niente sognante Sembra un road movie Sembra un road movie Molto crudo Realistico Molto neorealista Quasi no? Fa vedere un'America Un'America brutta Trista in realtà Molto Con spazi molto Desolati Luoghi molto desolati Molto difficile Da Da percorrere Con persone Non bellissime in giro Quindi appunto Questo è un film Molto più neorealista Tra virgolette No? Di Di Suspiria E però Ha una Ha una componente magica Comunque molto forte Anche se non si Non sembra Ho trovato Che questo film Per un attimo Riuscisse a farmi Sognare Come Sognavo da bambino Quando vedevo Che ne so L'ammazza vampiri E pensavo Ma se il mio vicino Di casa Fosse un vampiro Cioè Per un attimo Mi astrevo Dalla realtà E Il film Mi aveva condizionato E quindi Questo film Che parla Che appunto Dico Sembra un po' Neorealista Fa vedere Quest'America Così difficile Anche da Traversare Perché ti si rompe La macchina Poi che cazzo fai Fai l'autostop Vai prendi l'autobus Sono 60 dollari Per arrivare A non sai dove È solo un pezzo Un terzo della tua strada E sei senza una lira E sei Circondata da Persone pericolose Ostili Insomma È un'America Vera Non estrema Ma anche molto Dura Comunque E in questo C'è tutto questo mondo Fantastico Che diventa fantastico Nel momento in cui Tu Però Nel momento in cui Tu Crei dei personaggi Che possono interagire A livello Cioè a livello Olfattivo Tra di loro Per cui si Si riconoscono Si sentono a distanza Ecco questo Eleva il film A un livello Di cinema Di genere E per me È fantastico Ripeto Guadagnino Ha fatto un ottimo Lavoro in regia Perché È È girato bene E Lo si capisce Da come Sono Fichi Fighi I personaggi E sfumati Sfumati Nel senso Con tante sfumature Come per esempio L'indiano Il mezzo indiano La ragazza Lui Sono bellissimi Sono profondissimi Questi personaggi E E tutti E tutti Hanno dei Cazzo Dei traumi Psicologici Persino Il 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 signore Indiano Diciamo Che Di cui non dirò molto Per non spoilerare Ha dei traumi E lo dice Ci sono delle frasi Che dice Che spiegano Che cazzo Anche lui Non se l'è passata bene Che Che soffre Che soffre la solitudine E Vabbè La ragazza Il Poi alla fine I due ragazzi Rappresentano un po' Anche Quello che è un tema Uno dei temi principali Del film Il film è Fondamentalmente Un film Sulle Sulla loro emancipazione Sulla loro crescita Dall'età infantile Dall'età infantile All'età adulta Cioè È un percorso Che siano Cannibali o meno Non cambia un cazzo Cioè Loro hanno gli stessi Problemi dei teenager Americani E non E non Perché sono gli stessi Che scappano Fanno Disfano Fan casini Vengono picchiati Dai genitori Vengono abbandonati Dai genitori Vengono non capiti Dai genitori Quindi è Fondamentalmente È quello Ed è Ed è una cosa figa Questi sono film Sono storie Per teenager I teenager Dovrebbero vedere questo Dovrebbero vedere Le difficoltà La sofferenza Le difficoltà Dei genitori Le difficoltà Dei figli Questi sono i teen drama Che io voglio vedere Che voglio che i ragazzi vedano Per crescere Per sentirsi Per essere più intelligenti Non le stronzate Del liceo A bullì Poi si vedono solo cose schifose In quei tipi di prodotti Lì appunto Quindi è molto Molto figo È un film Io nei fetti speciali Eccezionali Non hai minimamente La sensazione Che ci sia niente di finto È tutto molto realistico È Abbastanza Fortino Per qualcuno Ovviamente Non per me Anzi Io mi sarei unito Al banchetto Sinceramente Una Forse ecco Una critica Che faccio Ma una critica Un po' così Che non la farei neanche Però giusto Perché devo riempire Sta cazzo di live Di contenuto La faccio Se Suspiri Aveva una fotografia Curata Nei minimi dettagli Particolare Con Tanto di post produzione Tutto era Curato Prima Durante E dopo In questo caso Io ho notato Una fotografia Non omogenea Ma penso che sia anche Voluto Quindi Non sempre eccezionale Non sempre Bella A volte veramente Stupenda Altre volte Meno Meno curata E lo si nota Proprio perché In alcuni punti È molto bella Però si nota Che in altri Invece È così Un po' così Trovo Lo trovo recitato Benissimo Mi spiace Veramente tanto Non averlo visto In lingua inglese Io spero Penso che ci siano Buone probabilità Che Uscendo in In un video Possa arrivarmi Un'edizione Magari Figa Che io possa Recensire E allora E allora A quel punto Me lo rivedo Volentieri In In lingua originale Perché secondo me Ha un impatto Mostruoso Tutto È legato A quanto Tu sei capace Quanto il film È capace Di Farti stare Lì insieme A loro Cioè Farti essere Uno di loro Farti Se ci pensate A un certo punto Del film Il cannibalismo Viene quasi Normalizzato Cioè Vi viene quasi A dire Vabbè Però Poveri Devo pur mangiare Qualcosa Questo Quindi Vuol dire Che il film Riesce Nel suo Nel suo Intento Come pellicola Non so Penso che i paragoni Siano Utili più Per il divertimento No Per il Per il Per il divertimento Nostro Perché poi Non sono utili A niente Sono Anzi Possono essere Anche Dannosi E stupidi Però Lo faccio Lo faccio Il confronto Personale Io Ho preferito Comunque Di gran lunga Il Suspiria Ma perché Sono Fondamentalmente Un erotomane Vedete come Vedete come Sono anche onesto Con voi Suspiria Un film Che lo trovo Lo trovo Veramente Un film Estremamente Erotico Ed è erotico A livello Eterosessuale Anche Nonostante Guadagnino Non lo sia Quindi Mi ha Veramente Tantissimo Affascinato Intrigato Un po' come Certi film Tipo Ice by Shot O Altri film Che dove Dove C'è tanto Mistero Tanta Sessualità Tanta Magia Ed è Sognante Io Comunque Associo Molto Il sogno Alla Sessualità Non lo so Mi è Mi è Piaciuto Come opera Mi è piaciuto L'ho trovato Molto più Più Espressivo Però Mettiamoci un Però Io sono Contento Che Guadagnino Abbia fatto Qualcosa Di Molto Diverso Anche Artisticamente Più Asciutto Qualcosa Di Più Più Meno Barocco Meno Come dire Colorato No E E appunto Anche un po' Neorealista Non lo so Mi ha ricordato Mi ha ricordato Per questo Fa essere Road Movie Visto che è uno degli ultimi Che ho visto Di film Road Movie Mi ha ricordato Nomadland Non so se avete presente Il film Nomadland È un film bellissimo Che vi consiglio Questo Degrado Anche se In Nomadland È molto più accentuato No La povertà Il degrado Della Del Dei deserti Della periferia americana Qua qualcosina c'era Quindi mi ha ricordato Un po' Quello Quindi per quello Dico che Non è gay Sì Penso che sia gay Era una battuta Cioè tipo Perché si vede Io non lo noto Comunque Mentre invece Questo è un film Questo qua Bones and Roll Che ha una Invece una componente Sessuale Anche più gay Secondo me Ovviamente non mi dispiace Vederlo Cioè nel senso Non è che uno deve essere gay Per apprezzare L'espressione Di una certa sessualità Che non Quindi Questo è un po' più Un po' più Un po' più gay Secondo me Questo film Strano da dire Ma non è una cosa Non è una cosa Un'etichetta Che vuole Come dire Bloccare il film In qualche Angolo No È un po' Una delle tante Emozioni Che ci sono dentro Quindi sì Allora In generale Mi ha colpito Di più All'epoca Suspiria Ma È un film Che mi è piaciuto Parecchio Mi è piaciuto Parecchio E Forse addirittura Potrebbe Una rewatch Potrebbe anche Far Una rewatch In inglese Potrebbe Farmelo Giudicare Ancora meglio Però Questo Chiaramente Non lo posso Sapere Finché Non provo Non lo posso Non lo posso Non lo posso Grazie.